Cari amici vicini e lontani di Vivitalia TV e dello schiacciassassi, un benvenuto da Stefano e nella nuova puntata del blog del nostro canale. A finire sotto le ruote del nostro strumento di compressione, ci c'è l'autonomia. L'autonomia è questo strano organismo per cui tutti ne parlano, tutti la vogliono, ma di fatto non arriva quasi mai. Ne sanno qualcosa i milioni di cittadini della Lombardia e del Veneto che a ottobre 2017 si recarono nelle urne per poter votare se dire sì o no alla maggiore autonomia riconosciuta dalla riforma costituzionale che da oltre 10 anni a questa parte non è mai stata attuata. Un esito plebiscitario che però è rimasto sulla carta. Abbiamo avuto due ministri che si sono impegnati più o meno a fondo, uno a cercare di poter attuare la riforma costituzionale e a dare reale e costrutto all'esito del referendum popolare e un altro che ha remato contro. Era logico da questo punto di vista qua. Uno che era della Lega, che ha cercato di fare il meglio possibile nonostante che fossero le prime armi e un altro ministro di istruzione meridionalista e soprattutto Pidina che ha remato contro, ha fatto a muina per cercare di non dare alle regioni che l'hanno chiesto e l'hanno soprattutto votata il giusto diciamo riconoscimento. Che tra l'altro non è nulla di trascendentale perché è la stessa costituzione, la riforma costituzionale voluta dal centro-sinistra che l'ha riconosciuta alle regioni che lo volessero fare. Tant'è vero che c'è stata una regione come l'Emilia-Romagna che ha preferito bypassare il discorso del referendum e fare direttamente una trattativa da Stato-Governo per poter attuare il procedimento della riforma costituzionale e quindi avere maggiore autonomia nelle 23 materie che la Costituzione riconosce erano delegabili alle singole regioni. Però neanche questa strada scelta dalla regione Emilia-Romagna e nonostante che ci fosse lo stesso colore tra regione e governo ha portato a nulla. Finito tutto su un binario morto. Adesso cosa succede? Succede che di autonomia ne parlano sì ma in altre occasioni perché il Parlamento, alcuni deputati, hanno presentato per primi l'iniziativa del disegno di legge immediatamente cantierata, immediatamente messa nel calendario della discussione delle commissioni competenti per dare a Roma maggiore autonomia, trasformare la capitale d'Italia in una regione e come tale con i finanziamenti molto maggiori di quelli che possono essere gestiti al giorno d'oggi. E dopo Roma ci sono stati altri deputati e senatori che hanno preso il carro e detto perché Roma sì e non Napoli e non Milano, tant'è vero che ci sono altri due proposte di legge che servono per dare le potestà di regione e di finanziamento anche a queste altre due città metropolitane molto grandi. in vero. Però perché dare l'autonomia a Roma subito e Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna no, visto che bene o male sono già oltre tre anni che stanno aspettando di avere l'autonomia e forse potrebbero avere anche un maggiore qualità di azione amministrativa se ci fossero più competenze e soprattutto i denari legati a queste competenze. Fa specie vedere in un corso, più che vedere, ascoltare nel corso di un'intervista al famoso programma Un giorno da pecore il nuovo segretario della Lega, Durigon, che plaude al fatto che ci sia la maggiore autonomia per Roma. Buon per lui da laziale, un laziale, un leghista laziale che però con i principi fondanti della Lega poco ciazzacca da questo punto di vista. Perché nel corso della sua intervista non ha detto una parola a favore dell'autonomia di Veneto e Lombardia, oltre che dell'Emilia-Romagna, per cui hanno votato milioni di cittadini. Se questa è l'autonomia del nuovo corso della Lega, beh, insomma, c'è un pochettino da stare un po' con qualche dubbio in più. Speriamo solo una cosa, che il neoministro agli affari regionali, Maria Stella Gelmini di Forza Italia, Lombarda, si ricordi del quanto ha fatto quando era l'opposizione, che quindi non lasciava passare un momento per richiedere che l'autonomia fosse una cosa realmente portata in avanti, che si trasformasse in realtà. Speriamo solo che passato via questo mese, mese e mezzo di insediamento e di gestione e avviamento della campagna del Covid, Maria Stella Gelmini dimostri effettivamente la pasta di cui è fatta e applichi l'autonomia ad iniziare prima dalla Lombardia e dal Veneto e dalle stesse Emilia-Romagna e poi per tutti gli altri che sono arrivati indietro. Rispettiamo la cronologia degli eventi. Cari amici, anche questa puntata giunge al termine. Per poter vedere i prossimi appuntamenti con il canale Vivi Italia TV e dello schiacciassassi, iscrivetevi in modo da essere sempre tenuti informati. Intanto un saluto da Stefano Elena e vi aspetto alla prossima puntata. Arrivederci, ciao!